buongiorno ragazzi forza forza iscrizione gratis al canale ed attivate la campanellina iscrizione gratis venerdì sera vi aspetto in live alle ventuno e quaranta circa arriva stasera una bellissima partita una bellissima partita dove dall'altra parte c'è un allenatore che ci odia ma è reciproca la cosa caro Gasperson come ti chiamavano quando allenavi il Genova anche noi non siamo dei tuoi simpatizzanti caro Gasperzini capito quindi quindi sono casato perché sarà una partita tosta con tanta corsa con con tanti duelli eh mancano a Cerbi e Turam due pilastri di 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 questo miracolo sportivo dell'Inter a Cerbi è ormai il ministro della difesa interista Turam è un giocatore clamoroso a cui eh la maggior parte degli interisti quest'estate non davano due lire io ero ero forse non l'unico ma quasi a dire ragazzi abbiamo preso un grande giocatore di cosa stiamo ragionando questo non è il ballerino anche se attento perché il ballerino torna a casa perché l'Oripec Marsiglia molto difficile è molto difficile che arrivi quarta e il ballerino io cosa ti avevo detto ti avevo detto vendiamolo a otto nove milioni invece no abbiamo voluto fare gli ingordi quindici sedici il ballerino io ti dissi farà il giro delle sette chiese in prestito se non lo vendi e ti accontenti di meno e tornerà a casa ed è quello che purtroppo accadrà ci sono grandi possibilità che accada ciò perché l'Oripec non va in Champions League e il ballerino torna a casa per l'ennesima volta c'è il ballerino ho detto boomerang comunque a parte questo eh loro hanno degli esterni molto veloci delle dei centrocampisti molto bravi eh dell'inserimento quindi deve giocare Pavard Bissec Bissec per come la vedo io a livello difensivo a livello difensivo perché nelle falcate mi piace te l'ho detto lo vedo più come esterno difensivo tipo David Lewis te lo ricordi David Lewis lo vedo molto più come esterno difensivo non mi dà fiducia eh come braccetto perché Bissec senza Darmian a certi livelli ad oggi difensivamente non è potabile te lo dico sinceramente non ti piace verlo e ti dico mi dispiace io sono abituato a dire la verità Bissec se te lo guardi se te guardi i movimenti se te guardi e disattento sull'uomo sbaglia i movimenti spesso e fuori posizione mentre quando prende la palla e va avanti è un treno di due metri in corsa non lo fermi mai è devastante non sarà Michael non sarà Kimi ma lo vedo tipo David Lewis io giocatore del genere da non fargli marcare più di tanto l'avversario per ora vorrei rivedere il mio uno dei miei pupilli oltre il ticus che è Carlos Augusto perché ora Carlos Augusto è diventato forte come mai eh Carlos Augusto prima che non gli si dava due lire ora è diventato un fenomeno è sempre stato forte Carlos se no non veniva chiamato dalla nazionale brasiliana Carlos è un signor giocatore lo vuoi mettere braccetto ti gioca braccetto lo vuoi mettere come quinto ti gioca quinto non ha problemi Carlos è un giocatore completo lo sta dimostrando sta crescendo sta entrando nei meccanismi degli allenatori da braccetto però è anche vero che c'è un certo bastoni che bisogna riconoscere a bastoncino una cosa che nell'ultimo mese essendo fisicamente al top anche a livello difensivo lui ha fatto delle partite clamorose bastoncini non essi non essi come fai a togliere bastoni e a mettere Carlos Augusto braccetto non lo puoi fare quindi però vedo Carlos Augusto magari al posto di Di Marco e per ora invertire i ruoli come dissi la settimana scorsa Di Marco in panchina Carlos titolare e il conti Marco che subentra per ora in questo periodo qua di forma dove Carlos ha preso anche fiducia parliamoci di Ozzaragioni non lo so dove i bastoncino è un giocatore bastoni è un giocatore che nasce eh cioè è un giocatore propositivo cioè lui diventa dopo difensore la migliore qualità di bastoni qual è la 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 visione di gioco e palla al piede quindi cosa gli succede a bastoncino quando accale di forma avendo anche un fisico importante eh perde molto in fase difensiva e e il posizionamento e per quello che a volte bastoncino a livello difensivo ancora è giovane ci mancherebbe a degli alti e dei bassi che lui deve essere al top al dato fa la doppia fase in maniera perfetta ed è uno dei migliori d'Europa cioè Mkhitaryan ragazzi classe 89 cioè non è un cyborg andrebbe un po' preservato ma purtroppo non ne puoi fare a meno anche perché è l'unico che ti fa che ti fa la doppia fase devo riconoscere una cosa che eh la coppia Mkhitaryan e Cialanoglu è la miglior coppia di centrompisti degli ultimi due anni perché lo stesso Brozovic con Cialanoglu non aveva quell'affiatamento e quel rendimento che hanno l'Armeno e il turco quindi Ciala e Mkhitaryan si completano molto di più e io ancora quel cruccio che parlavo stamattina con Michele di che sono i dati che saluto anch'io ancora quel cruccio di un Mkhitaryan che è mancato in finale di Champions League perché secondo me con lui le cose potevano andare potevano sarebbero andato usiamo il condizionale sarebbero andate diversi che Mkhitaryan è un giocatore ragazzi cioè non esiste un giocatore come Mkhitaryan in Italia ma anche in Europa nonostante abbia trentacinque anni non ne puoi fare a meno un po' come l'acqua lui non ne puoi fare a meno quindi è costretto a giocare sempre non può essere preservato Aslani Aslani io lo sai che ti voglio bene lo sai che ho sempre creduto in te secondo me puoi giocare nell'Inter occhio però Cup Miners perché quello lì a livello fisico è un mostro potresti soffrire qualcosa a livello fisico quindi non ti dico di scanzarti e se lo vedi di andare da un'altra parte occhio occhio a Cup Miners soprattutto dal lato fisico perché poi è un calciatore che a me piace tanto Cup anche perché con i piedi è molto bravo un bel sinistro fa gol tira in porta Cup Miners è veramente Cup Miners è veramente un bel giocatore io cosa c'è da dire poi c'è da dire io spero vivamente poi che giochi Danfris eh ragazzi cioè perché per me deve giocare Danfris Darmian in quel ruolo lì non ce la fa più non ce la fa fare la doppia fase Darmian ad oggi per come la vedo io e per lo stato di forma attuale deve essere usato solo ed esclusivamente come braccetto è vero quello che ho sentito dire su Aslani l'ho sentito dire anche da un altro youtuber è assolutamente vero per me è un giocatore clamoroso però quando fa il pressing alto eh se corre in avanti è un conto quando deve correre all'indietro è meno bravo nel fare il pressing però quelle sono cose poi fondamentalmente fondamentalmente puoi migliorare perché poi parti da una base tecnica atletica molto forte Aslani ragazzi è un giocatore clamoroso quindi stasera è una bella partita non vedo l'ora di arrivare all'orario giusto e cosa dire ragazzi qualora l'Inter riuscisse a vincere anche stasera cioè incomincio a mandarne in depressione diversi soprattutto gioventini e milanisti e quest'anno vuoi sapere cosa pensavano di fare ciao Inter Grazie 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 a tutti